Sette arresti a Milano e in altre città lombarde nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione dedita al traffico di documenti falsi. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale del Capologo Lombardo a carico di sette cittadini dell'Est Europeo, esito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura Milanese. L'operazione nasce da accertamenti avviati a seguito di un'operazione antiterrorismo delle autorità austriache nel dicembre scorso su una possibile pianificazione di attentati in Europa e ha permesso di evidenziare collegamenti con circuiti del terrorismo internazionale di matrice religiosa e in particolare con l'autore dell'attentato nel Centro Storico di Vienna del 2 novembre scorso. L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.